ciao a tutti sono l'area saccinto e faccio parte del team marketing e comunicazione in td sinnex lavoro qui da maggio ciao sono marco molinari e lavoro per td sinnex nel team marketing ciao sono samantha truglio sono quinto di sinnex da settembre sono nella bu di pc e periferous e il mio ruolo è il specialist ciao a tutti sono francesca e lavoro nel team marketing e comunicazione da settembre come web designer la parte del mio lavoro che mi piace di più è il fatto che ci siano diverse attività da svolgere durante la giornata così che si crea un ambiente di lavoro dinamico la parte più bella del mio lavoro la parte che mi piace di più del mio lavoro più bella per chi la parte migliore del mio lavoro sarà affrontare sfide diverse tutti i giorni che mi permetteranno di migliorare costantemente e di rimanere all'avanguardia nel settore tecnologico quello che mi piace di più del mio ruolo è il fatto di essere sempre a contatto con i clienti ma soprattutto riuscire ad imparare anche molte cose quello che mi piace di più del mio lavoro è il fatto di lavorare in team ed essere a stretto contatto con il mondo tecnologico mi reputo fan numero uno della nutella e nel mio tempo libero seguo delle lezioni di salsa e baciata allora sono qua da tre ore e mezza la mia nuova esperienza in tbc nex non fa schifo avrei imparato molte cose no è sì sto cercando di non ridere nel mio tempo libero mi piace molto disegnare e cucinare soprattutto le torte i pasticcini uova sode le mie passioni sono la palestra che è uno sport non è vero ma fa niente e soprattutto la formula 1 io sono un pilota professionista non è vero neanche questo i miei hobby io vado in palestra e mi piace molto allenarmi ma soprattutto mi piace anche uscire con gli amici e vederci molto frequentemente andare a ballare lo sguardo com'è abbastanza mi piacerebbe tanto poter continuare questa esperienza spero di rivedervi in future ciao a presto ragazzi per un nuovo episodio di lavori belli ciao a tutti spero tanto che i miei video vi siano piaciuti ciao a tutti